Ci parli di lei? Come mai ha voluto... ma porca puttana... Ma sono sociale? Buonanotte! Ma scusami, è una donna o no? Sì, ma dovete dire, ma una donna lo dovete dire... Ma non lo dobbiamo... Che è successo a questo? No, fai la mia azienda, è chiusa... Ma perché dovevamo fare crisi di piano? Ma un po' prendersi la tua maglietta nera ha anche più senso... Prendila, Massi! Prendila! Ma non mi sta!